SONO STATA MOLTO BELA Vuoi essere il mio cane? Attenta che mordo! E' di isteria collettiva. Duplice omicidio. La polizia ha ricevuto una lettera dall'assassino della 44 che si firma figlio di sé. Che cos'ha? Ho visto i cadaveri. Io sono il mostro, Benzebù. In un'estate rovetto. Vittime 5 e 6. In un quartiere. Vieni a visti i cadaveri ieri notte. Quali cadaveri? Tra amici e amanti. L'assassino sembra scegliere le vittime tra le ragazze dei capelli scuri e molte donne sono corse a parti bionde. Mi sento come se ti stessi tradendo con te. Chiunque può essere un obiettivo. Sono lo cavavittima, mi ha scritto nella lista. Commetto che l'assassino è di questo quartiere. E chiunque può essere sospettato. E' mancata la corrente. Sì, in tutta la città. Vi prego, restate sicuro. La città che non dorme mai è come posseduta da un incubo buio. Io so chi è l'assassino. Reggie Jackson. Ma chi hai nel cervello? Che pistola ha usato l'assassino? Una 44, giusto? E qual è il numero di Reggie? La 44. Figlio di Sam, è Ricci. Pensano sia lui, figlio di Sam, l'assassino della 44. Vinny, smettila! Nessuno entra nel mio quartiere senza la mia autorizzazione. E tu pensi che sia io? E' come se avessimo una doppia personalità, lì. Ben! Ehi, c'è qualcuno lì? La creatura di Spike Lee. Figlio di Sam, vieni a prendermi! Con John Leghizamo, Adrian Broody, Mira Sordino, Jennifer Esposito e Ben Gazara. Quello psicopatico non saprà dove andare a nascondersi. L'estate del 77 Apparteneva a Sam. Ehi, c'è questa la sua porta! Non saperebbe! Ehi, c'è questa la sua porta! Ehi, c'è questo! Ehi, c'è questa la sua porta! Grazie a tutti.